Grazie, ma qui che aspetto? Io qui non mi trovo. Io fra voi sto qui come il tredicesimo invitato, per cui viene aggiunto un panchetto e mangia nel piatto scompagnato. E fra tutti che parlano, lui ascolta. Fra tante risa cerca di sorridere. Inetto, benché arda a sostenere quel peso di splendori, si sente grato se alcuno casualmente lo guarda. Quando in cuore si smarrisce atterrito, sto per piangere. E all'improvviso capisce che siede un'ombra al suo posto, che entrando lui è rimasto fuori.